Perfetto, visto che ho solo dieci minuti a disposizione, cercherò di fare uno speech quanto più performante e comprensibile possibile. Di cosa vi parlerò oggi? Vi parlerò di INP, del nuovo Core Web Vital di Google, che entrerà in vigore da marzo 2024. Quanti di voi conoscono i Core Web Vital per alzate di mano? Ne hanno sentito parlare? Ok, bene. Ma non benissimo, ok. Allora, che cos'è INP? INP, che per esteso è Interaction to NextPaint, è un nuovo Core Web Vital, e quindi la domanda è cos'è un Core Web Vital, che andrà a sostituire Feed. E qui adesso vi racconto che cos'è Feed. Allora, innanzitutto, che cos'è un Core Web Vital? Un Core Web Vital è uno dei parametri definiti da Google come parametro che è un parametro che serve per misurare l'esperienza dell'utente. Questi parametri sono delle metriche, quindi sono dei numeri, sono qualcosa di misurabile dal browser, e Google ha deciso di eleggerne tre a Core, quindi sono più importanti di altri parametri che Google utilizza per misurare l'esperienza degli utenti sulla pagina. INP sostituirà Feed, perché Feed, First Input Delay, è un parametro che misura il ritardo della prima interazione che ha l'utente con la pagina. Ho sottolineato prima perché il Feed, a differenza di INP, si limita a questa, mentre INP misura tutte le interazioni che avvengono sulla pagina, in particolare misura la latenza più grande, quindi il ritardo maggiore che avviene tra tutte le interazioni che ha l'utente con la pagina. Questo perché? Perché l'utente normalmente non si limita a fare un solo click, un solo tap o a premere il tasto solo una volta, ma ne fa di più. Quindi questo parametro misura tutte le interazioni che avvengono sulla pagina stessa. Quando si parla di pagina è anche importante considerare che non è solo la pagina in sé, ma anche i frame, quindi i video ad esempio o i widget di chat. Quindi anche l'interazione che avviene all'interno di questi elementi ha un impatto sull'INP. Quindi occhio a cosa tirate dentro nel sito perché quello può impattare negativamente su INP. INP misura il tempo massimo che trascorre tra l'interazione che ha l'utente con il sito e il feedback visivo che ottiene, ovvero l'utente clicca, poi conta uno, due, tre, cambia qualcosa video, lì viene terminato, viene misurato l'INP. Quindi finché l'utente clicca e interagisce con la pagina e non succede niente a schermo l'INP continua a correre ed a aumentare di valore. Ovviamente più tempo passa e più non succede niente sulla pagina, più l'utente avrà un'esperienza utente pessima. Perché è importante l'INP? Per tre motivi principali, che poi alla fine sono tutti riconducibili a uno, che è l'esperienza dell'utente, ma andando per ordine è importante per la SEO, perché essendo l'INP uno dei core web vital e facendo in modo che, siccome Google premia, dà un boost nell'algoritmo se un sito supera tutti e tre i core web vital, quindi non solo INP, bisogna avere un sito ottimizzato, ma anche se non esistesse Google che ci premia con questo fantomatico boost che non è dato sapere se solo grazie a questo arriveremo primi su Google, spoiler, no, non è così, è comunque importante per l'esperienza dell'utente, perché? Perché se l'utente ha una pessima esperienza, clicca, non succede niente, l'utente poi può anche decidere di abbandonare la pagina, si rompe, si stufa, va da un'altra parte, va a comprare sul sito del vostro competitor e quindi pessima esperienza utente, pessimo tasso di conversione, quindi anche un sito con un'esperienza pessima ovviamente ne risentirà dal punto di vista delle conversioni. Quanto tempo può trascorrere massimo per considerare l'esperienza utente buona? 200 millisecondi, è veramente poco, quindi cosa bisogna fare affinché l'INP sia inferiore ai 200 millisecondi? Lo vediamo tra un attimo. Finisco la parte di spiegazione teorica segnalando tre cose importanti sull'INP, ovvero la prima è che viene calcolata quando l'utente esce dalla pagina, quindi se un utente sta sulla pagina anche due minuti, quando faremo i nostri test noi dovremo simulare tutto il comportamento dell'utente e compiere le stesse interazioni per avere un risultato attendibile. INP può anche non esistere per determinate pagine, ovvero no interaction, no party, perché se l'utente non interagisce dove l'interazione è il click, il tap o la pressione di un tasto, ad esempio fa solo lo scroll sulla pagina senza interagire in alcun altro modo, quella pagina avrà INP non disponibile. In più non è possibile misurarlo in laboratorio, quindi non è possibile usare Lighthouse o Google PageSpeed Insight per simularlo, per misurarlo con un strumento o da riga di comando per intenderci. Quello che si può fare però è approssimarlo oppure tenere come metrica alternativa il TBT, il blocking time, per cui andando a interagire, andando a migliorare gli aspetti che impattano sul total blocking time, allo stesso modo è anche impossibile migliorare l'INP. Perché? Perché si basano sulla stessa cosa, diciamo che migliorando il JavaScript, ne parliamo tra un attimo, si ottiene un miglioramento di tutte le metriche adesso collegate, tra cui total blocking time e anche l'INP. Quindi come ottimizzare per l'INP? Prima di tutto bisogna capire cosa significa ottimizzare all'atto pratico. Ottimizzare significa modificare il codice, il sorgente della pagina, HTML, JavaScript di cui è composta la pagina, in modo da fornire un feedback visivo all'utente il più velocemente possibile. La chiave di tutto l'intervento è questo, fare in modo che quando passi meno tempo possibile, da quando l'utente interagisce col sito a quando succede qualcosa a video. Andando più nello specifico, poi possiamo dire che il main thread deve passare nello stato di inattività il prima possibile. Che cos'è il main thread? Il main thread è il processo principale che vive all'interno del browser e che gestisce l'interazione dell'utente con la pagina, l'aggiornamento della grafica della pagina e anche l'elaborazione e l'interpretazione del codice JavaScript. E va da sé che il main thread può fare una sola cosa alla volta, un po' come gli uomini, che lo dico, è un insai gioco, se fare una sola cosa alla volta il main thread non fa eccezione. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo di non caricare il JavaScript che non serve. Perché? Perché se il browser carica del JavaScript e questo non viene eseguito, viene comunque parsato, viene comunque interpretato. Questa interpretazione ha un impatto sul, cioè tiene bloccato il main thread. Quindi se il JavaScript non mi serve, lo tolgo. Del JavaScript che mi resta in pagina, sia che sia bloccante, ovvero che si trovi nella sezione add del sito, che sia non bloccante, quindi si trova nel body, lo devo comunque ridurre al minimo. Perché il JavaScript ogni volta che si attiva ha comunque un bisogno del main thread per intervenire. E il main thread o esegue il JavaScript o disegna le cose a video. Inoltre bisogna anche stare attenti a non modificare il DOM, quindi la struttura della pagina con il JavaScript, o farlo in maniera centellinata. Perché più DOM modifico, più l'operazione di repaint, di ridisegno della pagina è grande e più tempo impiega il JavaScript anche per effettuare l'operazione. In più bisogna stare attenti a non scrivere e cambiare lo stile della pagina, quindi non impostare il CSS tramite JavaScript e fare questa operazione di lettura e scrittura contemporanea. Perché questo rende il processo sincrono e rendendo il processo sincrono lo rende bloccante, quindi il main thread è occupato lì e non può aggiornare la pagina. Quindi quello che possiamo ricapitolare, tutta sta storia del main thread, è che scrivi il codice JavaScript in modo che sia eseguibile il più velocemente possibile e che aggiorni lo schermo nel modo più veloce possibile, in modo che il frame successivo che viene disegnato avvenga in meno di 200 millisecondi. Quindi il consiglio finale è togliete i page builder che così vi risolvete tutti i problemi legati a INP e feed. Io ho finito, vi ringrazio, visto che non c'è spazio per le domande, me le potete fare dopo durante il talk, durante la pausa pranzo. Qui lascio i miei contatti nel frattempo che facciamo il cambio micro. Perfetto.